si trova non lontano dal monte vedolore nell'almova inghilterra svoltando verso oriente tra allegre fattorie e prati solatii ondeggianti in giugno di erbe profumate dovete imboccare una strada che sale tra squalli de colline queste gradualmente si accostano e formano un cubo paesaggio che per la violenta e aerea corrente del golfo che senza posa sibila tra le spaccate mura di arcigna e rocce così come per la tradizione che in quei paraggi colloca la capanna di una pazza zitella che tanto tempo fa vi sarebbe vissuta è chiamato il mantice della vergine folle tortuosa al fondo della gola si snoda una carrarezza pericolosamente stretta che occupa il letto di un antico torrente se seguite la strada sino al suo punto più alto vi troverete come sulla soglia di una porta dantesca per il carattere impervio delle pareti in questo punto per la loro tinta stranamente nera e l'improvvisia contrazione della gola questo valico è chiamato la tacca nera il burrone ora si allarga per il pendio di una vasta conca violacea la forma di tramoggia che sprofonda tra numerose montagne plutonie irte di alberi la gente del paese chiama questa conca la segreta del diavolo da ogni lato vi giunge agli orecchi il rumore di cascate d'acqua queste rapide correnti si uniscono infine in un torbido rio color mattone che ribolle in una rapida tra rocce enormi questo torrente dal colore così strano è chiamato fiume di sangue raggiunto un nero precipizio svolta improvvisamente a occidente e compie un pazzo salto di 60 piedi cadendo tra le braccia di uno stentato bosco di pini dalla chioma grigia in mezzo ai quali gorgoglia per procedere poi verso le invisibili pianure lontane corona in modo cospicuo una rocciosa altura che si trova al margine della cataratta la rovina di una vecchia segheria costruita in quei tempi primitivi quando nelle regioni limitrofe abbondavano vaste foreste di pini e di abeti il massiccio quacervo chiazzato di musco nero di questi immensi tronchi appena squadrati e irti di nodi qua e là ammassati insieme e da lungo tempo abbandonati ormai quasi imporriti o protuberanti in solitarie perigliose proiezioni sopra il cuporlo della cataratta impartisce questa rozzarovina legnosa non solo l'aspetto di un rudere di pietre appena sbozzate ma anche un'aria feudale che deriva dai circostanti scenari selvaggiamente turriti e fa pensare alla valle del reno o al thamberg non lontano dal fondo della segreta sorge un ampio edificio imbiancato a calce che si staglia come un qualche immenso sepolcro bianco contro il cupo sfondo del pendio montano coperto di larici e altri tenaci sempre verdi che inaccessibili sorgono in sinistre terrazze per circa 2000 piedi l'edificio è una cartiera trovandomi nel commercio delle sementi e la ditta essendoci così sviluppata che le mie sementi ormai venivano distribuite in tutti gli stati del nord e dell'est e avevano raggiunto il lontano suolo del missuri e delle caroline il mio fabbisogno di carta divenne così forte da rappresentare una voce importante nel bilancio generale credo quasi superfluo spiegare che in questo commercio la carta viene usata per fabbricare delle buste queste sono fatte abitualmente di una carta giallastra piegata in quadrato e quando piene sono quasi piatte e dopo essere state timbrate e aver ricevuto l'indicazione che precisa la natura dei semi contenuti rassomigliano abbastanza a una lettera d'affari pronta per essere spedita di queste piccole buste me ne occorreva una quantità incredibile parecchie centinaia di migliaia all'anno per un po di tempo avevo acquistato la carta da un commerciante all'ingrosso in una città vicina ma poi per fare economia e anche attratto dall'avventura del viaggio decisi di attraversare le montagne un percorso di circa 60 miglia e di andare a ordinare la mia carta alla cartiera della segreta del diavolo verso la fine di gennaio le strade essendo particolarmente buone per le slitte e promettendo di mantenersi tali per un certo tempo un grigio pomeriggio di venerdì nonostante il freddo pungente me ne partì sulla mia slitta ben fornito di pelli di buffalo e di lupo e dopo aver passato una notte per la strada il mezzodì del giorno seguente giunsi in vista del monte vedolor la vetta lontana fumava di gelo e dalla sommità coperta di boschi bianchi vapori bianchi salivano per aria come da un camino nel gelo intenso il paesaggio sembrava pietrificato i pattini d'acciaio della mia slitta crocchiavano e stridevano sulla neve friabile vitrea come se avanzassero su cristalli spezzati le foreste che qui e là fiancheggiavano la strada irrigidite penetrate dal freddo nelle loro fibre più segrete al più tenue refolo che le investisse emettevano strani gemiti non solo dai rami ondeggianti ma anche dai tronchi verticali fragili per l'eccessivo gelo parecchi colossali aceri di grana dura si schiantavano in due come cannelli di pipa e intralciavano il cammino tutto chiazzato del suo congelato sudore bianco al pari di un latte o montone con froge che ad ogni respiro emettevano due baffuti buffi di caldo fiato nero il mio buon cavallo che non aveva che sei anni si impennò ad una improvvisa svolta perché proprio attraverso il cammino ricaduto da non più di dieci minuti si attorcigliava un vecchio abete che ondeggiava cupo come un'anaconda raggiunto il mantice la violenta bufera che ci investiva direttamente alle spalle quasi spinse la slitta dall'alto schienale su per l'ascesa il vento ululava attraverso il fratto passaggio quasi greve d'anime dannate avvinte a questo mondo infelice prima di raggiungere la sommità nero come se esasperato da quella sferza di vento si tese sulle robuste zampe posteriori tirò con violenza la leggera slitta su per il pendio e rasentando rapido le pareti dell'augusta tacca si precipitò a una velocità pazza passando davanti alla rovina della segheria cavallo e cataratta piombarono insieme giù nella segreta del diavolo con tutta la forza che avevo alzandomi dal sedile lasciando le mie coperte curvandomi all'indietro con un piede puntato contro il parafango blocca il freno tirai le redini e riuscii a fermare il cavallo proprio in tempo per evitare a una svolta una collisione nel nero muso di una roccia distesa come un leone araldico lungo la strada a tutta prima non riuscivo a scorgere la cartiera l'intera vallata brillava di bianco tranne qua e là un pinnacolo di granito che rivelava un angolo nudo spazzato dal vento le montagne erano tutte avvolte nei loro sudari un corteo di cadaveri alpini ma dove si trovava la cartiera improvvisamente mi giunse all'orecchio un ronzio un fruscio di ruote mi guardai in giro ed ecco come una valanga arrestata vidi l'enorme fabbrica imbiancata a calce era tutta circondata da un gruppo di minori edifici alcuni dei quali per la loro aria meschina e nuda la lunghezza era tutta circondata da un gruppo di minori edifici alcuni dei quali per la loro aria meschina e nuda la lunghezza le finestre allineate e l'aria di generale desolazione erano senza dubbio i dormitori delle operaie un villaggetto bianco come la neve in mezzo alle nevi per il disordinato e pittoresco raggruppamento di questi edifici dovuto alla natura regolare rocciosa del terreno che impediva di sistemare gli edifici secondo un piano sistematico s'eran formate numerose piazze e cortili irregolari alcuni stretti sentieri e viali che in parte bloccava la neve caduta dai tetti intersecavano il villaggio in ogni direzione quando svoltando all'affollata via maestra che risuonava per i campanelli dei numerosi contadini i quali approfittando delle condizioni della strada così buona per le slitte trasportavano legname al mercato ed era frequentemente animata da rapidi cutter che correvano veloci da una locanda all'altra degli sparsi villaggi quando svoltai dall'affollata via maestra e lentamente penetrai nel mantice della vergine folle e vidi laggiù la tacca nera allora qualcosa di latente e insieme di ovvio nel tempo e nella scena stranamente richiamò alla mia memoria la prima visione dell'oscuro e fuliginoso temple bar e quando nero si avventò di corsa attraverso la tacca sfiorando in modo pericoloso le pareti rocciose ricordai di essermi trovato in un omnibus di londra che trascinato da cavalli imbizziti su per giù nello stesso modo sebbene non certo alla stessa velocità si era precipitato attraverso l'antico portale di vren sebbene tra i due episodi non ci fosse perfetta corrispondenza tuttavia questa parziale discrepanza non serviva che a infondere al richiamo e la vivacità e il disordine caratteristico dei sogni di modo che quando riuscì a frenare il cavallo davanti alla roccia protesa e potei infine discernere lo strano raggruppamento degli edifici della fabbrica essendomi lasciata alle spalle l'affollata via maestra e la tacca e mi ritrovai tutto solo silenziosamente intento a penetrare quasi di soppiatto attraverso infossati passaggi in questo angolo fuori dal mondo e vidi il lungo edificio principale della fabbrica coi suoi alti pignoni e una rozza torre retta allo scopo di sollevare le casse pesanti che sorge tra gli affollati edifici e i dormitori come la chiesa del tempio nel bel mezzo di uffici e stanze e quando la meravigliosa reclusione di questo misterioso anfratto riuscì a farsi sentire nel pieno del suo incanto allora al manchevole ricordo suppli l'immaginazione e io mi dissi questo è il vero contraltare del paradiso degli scapoli un contraltare su cui ha nevicato e che è coperto dal gelo come un sepolcro smontato avanzai guardingo per il pericoloso declivio e tanto il cavallo che l'uomo scivolavano di tratto in tratto sulle vigate lastre di ghiaccio e finalmente arrivai o la bufera di vento mi spinse nella piazza maggiore davanti a un lato dell'edificio principale maligno stridulo il vento gelato mi investiva dall'angolo dell'edificio mentre il fiume di sangue ribolliva accanto rosso e demoniaco una lunga catasta di legna di parecchie decine di steri tutta scintillante in una lorica di ghiaccio attraversava diagonalmente la piazza una fila di posteggi di cavalli il fianco settentrionale smaltato da quella neve aderente fiancheggiava il muro della fattoria paurosi lastroni gelati pavimentavano la piazza come sonore lastre metalliche ritornò invertita la similitudine di prima il dolce tranquillo giardino del tempio col tamigi che fluisce lungo le sue verdi aiuole mi disse stranamente ma dove sono mai gli allegri scapoli in quel momento mentre io e il mio cavallo si rabbrivediva sotto il soffio gelato del vento una ragazza corse dalla porta di un vicino dormitorio e coprendosi la testa nuda col sottile grembiule si avviò verso l'edificio di fronte un momento ragazza non vi è nessuna tettoia da queste parti dove possa ripararmi soffermatasi essa volse verso di me una faccia pallida di fatica bluastra di freddo uno sguardo sovrannaturale di ineffabile miseria no no un abitaio mi sono sbagliato andatevene andatevene pure non voglio nulla accostato il cavallo alla porta dalla quale essa era emersa picchiai apparve un'altra pallida fanciulla bluastra che rabbrivediva sulla soglia e che come per impedire alla tormenta di penetrare aveva appena socchiuso la porta no no mi sono di nuovo sbagliato nel nome di dio chiudete la porta ma un momento non c'è nessun uomo da queste parti in quel preciso istante un uomo dalla carnagione scura attraversò bene imbaccuccato il cortile diretto verso la porta della fabbrica la ragazza non appena l'ebbe visto chiuse rapidamente signore non c'è nessuna tettoia per i cavalli da queste parti laggiù nella legnaia mi fosse quello che scomparve dentro la fabbrica con fatica riuscì a insinuarmi con cavallo e slitta tra gli sparsi muschi di legna segata e spaccata poi coperto il cavallo con una gualdrappa e disposta la pelliccia di bufalo sulla coperta ne infilai con cura i lembi nel pettorale nello straccale in modo impedire al vento di portargli la via e infine lo legai ben saldo dopodiché goffamente corsi verso la porta della fabbrica già rigidito dal gelo e impacciato dal mio greve tabarro mi trovai immediatamente in uno spazio stanzone intollerabilmente illuminato da lunghe file di finestre che riflettevano all'interno l'esterno biancore della neve davanti a file di squalli di tavoli sedevano file di squalli ragazze con squalli di piegatori bianchi nelle loro squalli de mani squalli da mente intente a piegare squalli da carta in un angolo sorgeva una poderosa intelaiatura di ferro con un aggeggio verticale simile a un pistone che periodicamente si alzava e si abbassava sopra un massiccio blocco di legno davanti a questo sua pallida ministra stava un'altra ragazza che nutriva quel ferro mostro con fascicoli di rose a carta da lettere che ogni discesa di quel pistone riceveva in un angolo l'impronta di una ghirlanda di rose dalla rose a carta volsi gli occhi alle palli de guanze ma non dissi nulla un'altra fanciulla seduta davanti a una lunga macchina che come un'arpa tendeva lunghe corde sottili la nutriva di foglie di carta protocollo i quali passando misteriosamente dalla fanciulla alle corde venivano ritirati all'altra estremità della macchina da una seconda fanciulla le mani della prima li consegnavano bianchi nelle mani della seconda giungevano rigati guardai la fronte della prima fanciulla e vidi che era giovane e bella guardai la fronte della seconda e vidi che era rugosa e corrugata ma mentre continuava a guardare le due forse per variare alquanto la monotonia del lavoro esse scambiarono posto e dove prima vi era la giovane fronte intatta si trovava adesso la fronte corrugata e rugosa appollaiata sopra un altro sgabello che si trovava sopra un'altra stretta piattaforma sedeva un'altra fanciulla ministra di un qualche altro ferro animale mentre sotto la piattaforma sedeva la sua compagna in qualche specie di reciproca assistenza non sudiva sillaba non sudiva tranne il basso e perenne ronzio soverchiante dei ferrei animali la voce umana era stata bandita da quel salone le macchine vantati schiavi dell'umanità qui si facevano tirannicamente servire da esseri umani che servivano muti abietti come gli schiavi servono il sultano le fanciulle non sembravano tanto ruote accessori della macchina generale quanto semplici denti di quelle ruote tutta questa scena che mi circondava immediatamente la afferrai con un unico sguardo circolare prima ancora che avessi avuto il tempo di allentare il pesante collo di pelliccia che mi proteggeva ma non appena ne fui liberato l'uomo dalla carnagione scura che mi era vicino lanciò un improvviso grido e afferrandomi per il brazzo mi trascinò all'aperto dove senza dirmi neppure una parola immediatamente afferrò un po di neve congelata e a strofinarmi ambedue le guance due macchie bianche come il bianco degli occhi mi disse amico le guance cominciavano a congelarvi può vendarsi risposi io ed è anzi da stupire che il gelo della segreta del diavolo non produca malanni maggiori continuate a massaggiare ben presto tremendo l'ancinante dolore mi dilaniò le guance che cominciavano a ravvivarsi si sarebbe detto che venissero straziate da due mastini famelici mi sentivo a teone poco dopo finita l'operazione rientrai nella fabbrica spiegai il motivo della mia visita conclusi con mia soddisfazione la transazione commerciale e poi chiesi di poter ispezionare l'intera fabbrica cupido è il ragazzo che fa per voi mi disse l'uomo dalla carnagione scura cupido cupido con questo strano nomignolo si rivolse a un ragazzino molto sveglio che con le fossette sulle rose e guance e un'aria vivace e allegra in quel momento avanzava e piuttosto imprudentemente mi parve tra tutte quelle ragazze dall'aria passiva e sottomessa pesciolino d'oro tra onde prive di colore e non sembrava avere nessun incarico speciale l'uomo gli ordinò di condurre il forestiero a visitare la fabbrica venite prima a vedere la ruota d'acqua disse questo vivace ragazzino con un'aria di fanciullesca e briosa importanza usciti dalla sala della piegatura passammo su fredde assi fradice e ci trovammo sotto una grossa tettoia umida perennemente spruzzata di schiuma come la verde prua coperta di lepadi di qualche legno delle indie orientali investito dalla bufera senza tregua compiva le sue enormi rivoluzioni una oscura e colossale ruota sinistra nell'adempimento di quella sua immutabile bisogna questo mette in azione tutte le macchine signore in ogni parte di questi edifici dove le ragazze lavorano e anche altrove guardai e vidi le torbide acque del fiume di sangue pur accettando di servire l'uomo non avevano mutato la tinta loro vi limitate a fabbricare carta bianca e non stampate nulla vero solo carta bianca certamente che altro dovrebbe fare una cartiera il ragazzo a questo punto mi lanciò uno sguardo come se sospettasse del mio buonsenso certo certo assenti io balbettando confuso solo che mi sembrava strano che delle acque così rosse servono a fabbricare così palli de guan voglio dire carta così bianca e mi condusse per una bagnata e traballante scaletta ad una grande stanza luminosa dove non si scorgevano che ruzzi ricettacoli a forma di mangiatoia disposti lungo le quattro pareti accanto a queste mangiatoie come altrettante cavalle legate alla greppia stavano file di ragazze davanti a ciascuna era piantata verticalmente una lunga e scintillante false fissata sull'orlo inferiore della mangiatoia la curva della false e la mancanza di un manico la rendevano esattamente simile a una spada in su e in giù lungo l'affilata lama le ragazze facevano passare perennemente lunghe strisce di strazzi lavati al punto ad essere diventati bianchi e raccolti da cesti che avevano alato in questo modo liberandoli d'ogni costura e convertendoli quasi in filazze l'aria era impregnata di minuscole particole velenose che sprizzavano da ogni lato e che sottili come il pulviscolo rivelato da un raggio di sole penetravano nei loro polmoni questa è la stanza degli stracci tossì il ragazzo par di soffocare tossì io risposta ma le ragazze non tossiscono ci sono abituate ma dove trovate tanti stracci raccogliendone una manciata da un cestino parte viene dai dintorni parte da oltre il mare rivorno londra e allora non è improbabile mormorai io che tra questi mucchi di strazzi possa magari trovarsi qualche vecchia camicia raccolta nel dormitorio del paradiso degli scapoli ma non c'è un bottone dimmi un po ragazzo è mai capitato di trovare bottoni di scapoli non ne cresce nessuno da queste parti la segreta del diavolo non è un posto adatto ai fiori tu volevi parlare dei fiori chiamati così e voi di che cosa parlavate o volete forse alludere ai bottoni d'oro del nostro padrone il vecchio scap come le ragazze lo chiamano sottovoce allora l'uomo che ho visto sotto è scapolo vero sì è scap quelle spade hanno il taglio in fuori e presentano il dorso alle ragazze se non mi sbaglio ma straccia e dita muovono così velocemente che non riesco a vedere bene sì hanno il taglio in fuori già mormorai a me stesso adesso vedo col taglio in fuori ogni retta spada viene così portata col taglio in fuori davanti a ciascuna ragazza se ben ricordo quanto ho letto è proprio così che una volta i prigionieri di stato condannati a morte uscivano dall'aula del tribunale diretti verso la morte preceduti da un ufficiale che recava una spada col taglio in fuori a significare la loro condanna a morte e così nel tisico pallore di questa squallida vita cenciosa ognuna di queste bianche ragazze si avviava alla sua morte quelle falci sembrano molto affilate rivolgendomi nuovamente al ragazzo certo e devono esserlo sempre guardate in quel momento le due ragazze lasciando stare gli strazzi passavano una cotta su e giù lungo la lama non essendo abituato mi senti raggricciare tutto allo stridio che esse produssero carnefici di se stesse e se stesse obbligata ad affilare la spada che le sterminerà mi dissi cos'è che rende queste ragazze pallide come un lenzuolo che volete con un monellesco sorriso capriccio di un ignorante non certo fredda crudeltà penso che a forza di maneggiare strazzi diventano anche loro dei palli di strazzi usciamo dalla stanza degli strazzi ragazzo più tragica più imperscrutabilmente misteriosa di ogni misteriosa visione di uomini o macchine per tutta quanta la fabbrica era la strana innocenza di quella crudeltà che si riscontrava nel ragazzo indurito dall'abitudine e adesso mi dicherò allegro penso vogliate vedere la nostra grande macchina che ci ha costata 12 mila dollari solo l'autunno scorso ed è proprio la macchina che fabbrica la carta da questa parte signore seguendolo attraversai un ampio locale tutto insaccherato con due grandi tinozze rotonde piene di una sostanza bianca umida lanosa non dissimile dall'albume di un uovo affogato ecco disse cupido battendo indifferentemente con le nocche sulle tinozze questo è il principio della carta questa polpa biancastra che vedete guardate come corgoglia e muove tutto in giro rimestata da quella spatola laggiù di qui cola da tutte e due tinozze in quel canale comune e così va mescolate tranquilla sino alla grande macchina e adesso passiamo a quella mi condusse in una stanza dove l'atmosfera era quasi irrespirabile per uno strano e sanguigno calor uterino come se qui veramente venissero infine sviluppati minuscoli germi visti poco prima davanti a me si stendeva come qualche lungo manoscritto orientale una ininterrotta intelaiatura di ferri molteplice e misteriosa con varie sorte di ruote cilindri e rulli che muovevano tutti con un lento ritmo continuo qui arriva la pasta disse cupido indicandomi l'estremità più vicina della macchina guardate da prima cola e si distende su questo largo asse inclinato e poi guardate scivola sottile e gelatinosa sotto quel primo rullo laggiù seguitela adesso e osservate come passi da quello al prossimo cilindro ecco guardate adesso è diventata un tantino meno papposa ancora un passaggio e acquistato una consistenza leggermente maggiore sotto un altro cilindro e ha preso corpo grana sebbene sia ancora sottile come l'ala di una libellula in questo punto forma come un ponte aereo una ragnatela sospesa tra due altri rulli passando sopra quest'ultimo e di nuovo sotto e ripiegandoci scompare dalla vista per un minuto tra tutti quei complicati cilindri che non distinguete bene ma eccola riapparire qui avendo finalmente un po meno l'aria di una pasta flaccida e un po più l'aspetto di carta tuttavia per qualche tempo resta ancora assai delicata e difettosa ora venite un pochino più avanti signore per piacere ed ecco che a questo punto assume veramente l'aria di carta come stesse per trasformarsi in qualcosa che infine potrà venire maneggiato ma non ha ancora finito signore deve ancora percorrere un lungo cammino e tanti cilindri devono ancora comprimerla e rullarla sull'anima mia esclamai stupito dalla lunghezza dalle interminabili circonvoluzioni e dalla voluta lentezza della macchina occorre molto tempo perché la pasta viaggi da un'estremità all'altra e si trasformi infine in carta oh non tanto sorrise il precoce monello con l'aria superiore di una persona che la sa lunga solo nove minuti ma guardate potete provare voi adesso avete un pezzetto di carta guardate eccone qui un pezzo per terra ora scriveteci la parola che vi piace e io la metto qui e così potremmo misurare il tempo che occorre prima che esca dall'altra parte beh vediamo dissi io estraendo la matita ecco ci scrivo il tuo nome pregandomi di estrarre l'orologio cupido avvilmente lasciò cadere il pezzetto di carta scritto sulla parte esposta della pasta informazione in quell'istante il mio occhio guardò la lancetta dei minuti sul quadrante lentamente seguì quel pezzetto di carta pollice per pollice talvolta perdendolo di vista un buon mezzo minuto quando scompariva sotto gli imperscrutabili gruppi dei cilindri inferiori solo per vederlo emergere di nuovo e così via un momento dopo l'altro pollice per pollice mentre ora in piena vista scivolava come un eferide sul vibrante foglio poi scompariva di nuovo totalmente e così via un pollice dopo l'altro e intanto il foglio principale si avvicinava sempre di più alla consistenza finale finché improvvisamente vidi una specie di cascata di carta non del tutto dissimile da una cascata d'acqua e un suono di cesoie mi colpì l'orecchio come di corda che si spezza e giù cadde un dispiegato foglio di perfetta carta protocollo col mio cupido quasi cancellato ma ancora umido e caldo il mio viaggio era terminato perché questa era la fine della macchina beh quanto è durato chiese cupido nove minuti precisi risposi io consultando l'orologio ve l'avevo detto per un istante una curiosa emozione mi invase in qualche modo affine a quella che qualcuno potrebbe sperimentare nel vedere attuarsi una misteriosa profezia ma che pazzia subito mi dissi non si tratta che di una macchina l'essenza della quale è un'invariabile puntualità e precisione la mia attenzione sino allora rivolta a ruote e cilindri divenne a questo punto attratta da una donna dall'aspetto mesto che si trovava lì a costo è piuttosto vecchia quella donna che così silenziosa bada alla macchina e tuttavia non ha l'aria di aver molta pratica oh tra il frastuono delle macchine mi sussurrò cupido con l'aria di saperla lunga è arrivata appena la settimana scorsa prima faceva l'infermiera ma non trovava lavoro da queste parti e così ha cambiato mestiere ma guardate la carta che ammassa laggiù già tutto formato protocollo maneggiando il mucchio di foglio ancora umidi e tiepidi che venivano senza intermissione a cadere tra le mani protese della donna non fabbricate altro che carta protocollo con questa macchina qualche volta ma non sovente fabbrichiamo carta più fine quella che chiamiamo carta crema fogli reali ma la richiesta maggiore è di carta protocollo e così noi abitualmente fabbrichiamo protocollo era una cosa molto curiosa guardando quella carta bianca che cadeva senza tregua la mia mente si mise a pensare agli strani usi cui sarebbero più tardi servite quelle migliaia di pagine ogni sorta di scritti sarebbero stati vergati su quei vergini fogli sermoni esposti di avvocati ricette di dottori lettere d'amore certificati di matrimonio dichiarazioni di divorzio atti di nascita sentenze di morte e così via a non più finire poi tornando ad essi che erano per ora tutti immacolati non potei non pensare a quel celebre paragone di john locke il quale per dimostrare la sua teoria che nell'uomo non esistono idee innate assomiglia la mente umana a un foglio di carta bianca sul quale verrà pur scritto qualcosa che nessuno è in grado di prevedere camminando lentamente in su e in giù lungo la macchina in questione che ronzava sempre nel suo lavoro venne colpito tanto dall'inevitabilità quanto dalla complicazione di tutti i suoi movimenti forse che questa sottile ragnatela dissi indicando un foglio in una fase ancora imperfetta non si spezza mai è così incredibilmente fragile e tuttavia questa macchina attraverso cui corre è così possente non è mai accaduto che abbia strappato un filo non si ferma mai non si guasta mai no deve andare avanti i meccanismi la fanno muovere così in questo senso e sempre al ritmo che vedete adesso la pasta non può fermarsi mi sentì dominato da una specie di sgomento nel contemplare l'inflessibile animale di ferro un meccanismo di questo tipo così ponderoso e complicato insinua sempre nel cuore umano una strana sorta di sgomento come potrebbe qualche vivo e ansimante levietano ma ciò che rendeva la macchina che ora contemplavo così specialmente terribile era la sua metallica necessità di inesorabile fatalità che la governava sebbene qui e là non potessi seguire quel sottile e trasparente velo di pasta nel corpo del suo processo più misterioso o addirittura invisibile tuttavia era in dubbio che in quei punti che sfuggivano alla mia osservazione esso continuava a procedere con la consueta docilità obbediente alla tirannica astuzia della macchina mi sentivo come affascinato e stavo incantato la mia mente si perdeva in vaghi pensieri ecco sotto i miei occhi in lenta processione tra le circonvoluzioni dei cilindri avevo l'impressione di vedere commiste in quel pallido glutinoso velo di pasta le anche più pallide facce delle più pallide fanciulle che avevo incontrato quel melanconico giorno lente meste supplici ma condannate mi balucinavano dinanzi la loro agonia vagamente tracciata sulla carta imperfetta come l'impressione del volto martirizzato sul fazzoletto della veronica che avete forse non reggete al calore della stanza mi chiese cupido squadrandomi no no se mai mi sento corso da brividi uscite signore venite venite fuori e con l'aria protettrice di un attento genitore il precoce monello mi fece rapidamente uscire pochi momenti dopo sentendomi rimesso rientrai nello stanzone della piegatura il primo dove m'ero introdotto e dove si trovava la scrivania delle ordinazioni circondata da squalli di tavole davanti alle quali si trovavano tutte quelle squalli di ragazze il vostro cupido mi ha fatto fare uno strano giro disse all'uomo dalla carnagione scura cui ho già accennato e che ormai sapevo essere non solo un vecchio scapolo ma anche il principale proprietario la vostra è una fabbrica veramente magnifica quella grande macchina è un autentico miracolo di complicata imperscrutabilità già tutti i visitatori ne restano colpiti ma non ne abbiamo molte siamo in un angolo fuori mano qui anche gli abitanti sono scarsi la maggior parte delle nostre ragazze vengono da villaggi lontani già le ragazze ripete io come un eco lanciando uno sguardo in giro su quelle silenti forme come si dà signore che nella maggior parte delle fabbriche le operaie di qualsiasi età siano sono sempre chiamate ragazze e mai donne o in quanto a quello beh penso che la ragione sia perché in generale non sono sposate direi ma non c'avevo mai fatto caso in quanto alla nostra fabbrica noi non accettiamo donne sposate perché capita troppo sovente che si assentino noi vogliamo qui gente che lavori sul serio 12 ore al giorno per 365 giorni salvo le domeniche le feste comandate questa è la nostra regola così siccome non abbiamo donne sposate le nostre operaie è naturale che le chiamiamo ragazze e allora queste sono tutte zitelle dissi io mentre una sorta di mesto omaggio alla loro pallida verginità mi obbligava a fare un inchino tutte zitelle di nuovo mi sentì invaso da quella strana emozione le vostre guance sono ancora un po pallide signore osservò l'uomo scrutandomi attentamente dovete stare attento nel viaggio di ritorno sentite ancora qualche dolore adesso sarebbe un brutto segno se vi facessero male sono sicuro signore risposi io che appena uscito dalla segreta del cavolo guariranno subito già già l'inverno l'aria nelle vallate nelle gole e in qualsiasi punto incassato è assai più fredda e aspera che non altrove magari stentate a crederlo ma vi assicuro che l'aria è ben più fredda qui che non sulla vetta del monte vidolor non ne dubito signore ma ho premura e devo andarmene dopodiché essendomi nuovamente ricoperto con tabarro e sciarpa e avendo infilato le mani nelle grosse manopole di pelle di foca mi avventurai nella gelida aria e trovai che il mio cavallo il povero nero era tutto rattrappito e ripiegato su se stesso per il gelo poco dopo immerso nelle pelli e nelle mie meditazioni uscivo dalla segreta del diavolo alla tacca nera mi soffermai e un'altra volta pensai al temple bar poi attraversando rapidissimo il valico tutto solo con l'imperscrutabile natura asclamai o paradiso degli scapoli o tartaro delle vergini